Italia che va in Italia è atteso quindi un calo della crescita economica pari a circa lo 0,4%. Sono dati che chiaramente dovranno essere confermati, però pare vi possa essere una conseguente riduzione del 30% del tasso di crescita. Ci interessiamo oggi ad un nuovo strumento che è stato messo a punto dalla regione Lazio e che intende contrastare questo trend e liberare quindi energia a sostegno dello sviluppo economico e anche occupazionale. In questa maniera si mettono a disposizione ingenti risorse per incentivare gli investimenti privati. È nato infatti Bill. Che cos'è Bill? Braccio di sostegno alla istituzione regionale teso a facilitare lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Ma ce lo spiega meglio il nostro ospite di oggi che è l'assessore alla piccole e medie imprese della regione Lazio, Francesco De Angelis. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cos'è Bill e chi è diretto, sessore? Bill è uno strumento moderno, flessibile, dinamico e direi fortemente innovativo. Bill è banca e impresa Lazio. È uno strumento a servizio delle piccole e medie imprese per facilitare l'accesso al credito. La regione impegna circa 20 milioni di euro per un investimento che si aggira sui più 200 milioni. Quindi una grande occasione, una grande opportunità per le nostre imprese e soprattutto uno strumento utile per affrontare dopo Basilea 2 il tema del credito e quindi il rapporto delle piccole e medie imprese con il sistema bancario. Assessore, a chi è diretto il progetto Bill? È diretto alle imprese, alle imprese, soprattutto a loro, per favorire soprattutto degli investimenti. Potranno accedervi qualunque tipo di imprese o ci sono dei parametri da rispettare? Ma ci sono dei parametri da rispettare, ad esempio un parametro è la buona occupazione e poi ci sono le scelte, le scelte strategiche e programmatiche della regione. Prioritari saranno i settori di intervento sui distretti industriali, sulle aree di eccellenza, sugli investimenti per l'innovazione, per la ricerca e quindi il tema della programmazione, delle scelte, degli obiettivi strategici della regione, puntare sulle eccellenze, puntare sull'innovazione e sulla ricerca. È un percorso, questo ragionato, che ha trovato oggi sbocco dopo molte riflessioni e molti anni anche di dibattiti sull'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Però parte anche da esigenze concrete, mettere in campo strumenti capaci di poter fornire appunto alle imprese garanzie essenziali. Il Lazio ci risulta il secondo prodotto interno lordo italiano e in questa maniera riesce a favorire anche un sistema di crescita produttiva. Però questo strumento innovativo, Bill, permette con soli 20 milioni di euro investiti una potenzialità pari a 200 milioni. Questo moltiplicatore in che maniera funziona? Beh, perché la nostra garanzia servirà alle piccole e medie imprese per presentare progetti e quindi programmi di investimento. Queste sono investimenti che si aggireranno molto probabilmente su un valore di circa 200 milioni e quindi, come dire, diventa un'occasione importante di sviluppo, di crescita economica, anche di lavoro e di occupazione. Ecco, dietro questi investimenti c'è questa garanzia, c'è questa garanzia con il sistema bancario che offre la Regione Lazio attraverso questo strumento, lo strumento Bill. Favorire le imprese che creano buona occupazione significa favorire anche un carattere etico della scelta, in accordo con quanto è il documento di programmazione economica e finanziaria. In che maniera riuscite a premiare queste imprese che promuovono l'occupazione? Un po' una sorta di premio, diciamo, di facilitare da questo punto di vista lo strumento Bill e quindi l'accesso al credito per le piccole imprese, soprattutto per queste imprese che stanno dentro i parametri del documento di programmazione economica e finanziaria della Regione Lazio. Questo è molto importante, sarà così anche per i distretti industriali e sarà così anche per i prossimi bandi che la Regione pubblicherà a sostegno dell'innovazione e della ricerca. Parliamo quindi di grandi masse di denaro messe a disposizione, ma quali saranno le eccellenze sulle quali punterete e quali programmi anche di innovazione e ricerca? Punteremo intanto moltissimo sui settori di eccellenza, sui distretti industriali. Faccio alcuni esempi, l'audiovisivo, il chimico farmaceutico, la nautica forse, il distretto della nautica che è di nuova istituzione. Questi sono i settori di eccellenza, il nostro Made in Italy è il settore produttivo di eccellenza della Regione Lazio. Ma vi sarà anche una legge però che sarà cambiata sui distretti, saranno più competitivi e anche meno regionali? Beh sì, usciremo fuori dal parametro territoriale, quindi dal territorio al sistema produttivo. Cambieremo la legge, è mia intenzione cambiare la legge, quindi anche qui sulla 36 per i distretti, uno strumento molto più moderno, molto più innovativo, molto più flessibile e quindi il tema della rete e della filiera per dare più forza al sistema produttivo regionale. Grazie allora, grazie e saranno molte le aspettative di standard europei di questo nuovo strumento, una sorta di ingegneria della finanza vera e propria. Grazie all'assessore Francesco De Angelis per essere stato con noi. Grazie, buongiorno.